Per realizzare il nostro flauto di pan con oggetti casalinghi ci servono un righello, una penna, delle forbici, otto cannucce del nostro adesivo. Cominciamo misurando la prima delle otto cannucce con il nostro righello. Quindi prendiamo la seconda cannuccia e con la penna indichiamo due centimetri il punto in cui andremo a tagliarla. Proseguiamo con le altre sempre tagliando ogni due centimetri rispetto alla cannuccia precedente. Dopo aver tagliato le cannucce in questo modo, le allineiamo dalla più lunga alla più corta. Quindi prendiamo del nastro adesivo per fissarle tra di loro. Ed ecco pronto il nostro flauto di panna. Buon divertimento! Buon divertimento!